Sono Silvio Cantarin, manager dell'ufficio CAD di Emilio Pucci, un marchio nato nel 1949. In questo momento noi siamo parte della grande famiglia dell'LVMH e siamo una delle poche griff in Italia, essere il vero made in Italy. Grazie a Prismatech, in Emilio Pucci, un anno e mezzo fa è entrato a far parte della nostra famiglia Clue3D. Quello che ci ha spinto verso questa scelta sicuramente è stata la voglia di ridurre le tempistiche e i costi della prototipia. A oggi possiamo affermare con certezza che questa scelta ha portato a una riduzione del 30% sia nella parte della tempistica che sicuramente dalla parte dei costi. Un'altra scelta per noi fondamentale è stata la possibilità di vedere in anteprima i capi da poter far vedere allo stile in modo da gestire a priori già tutta quella che è la parte di vestibilità e delle stampe. In questo momento per noi Clue3D è stata la scelta migliore sotto vari profili. Uno perché sicuramente abbiamo trovato più avanti rispetto a quello che potrebbe essere la concorrenza. Un altro motivo per cui abbiamo scelto Clue è perché abbiamo trovato in Prismatech sicuramente un partner che ci ha seguito passo passo in questa scelta. La scelta è stata sicuramente brillante ma soprattutto per il fatto che l'inserimento di questo nuovo software ci ha dato immediatamente dei risultati. Dopo 15 giorni avevamo già i primi capi cuciti da presentare all'ufficio stile e questo ci ha dato sicuramente un grande margine perché abbiamo ottenuto in pochissimo tempo quello che cercavamo da anni. Questo processo ha modificato notevolmente il nostro modo di pensare. Fino a oggi, prima dell'ingresso di Clue, avevamo dei grossi problemi tra quello che era pensato dallo stile e alla fine i capi realizzati. Perché? Perché sicuramente progettare un campionario con molte stampe in un formato 2D non dava all'ufficio stile quello che era la realtà del capo. Oggi noi in pochi secondi, in pochi minuti insomma, riusciamo a dare subito un'idea di quello che è la nostra idea del posizionamento della stampa. E sicuramente questo aiuta il nostro ufficio stile a decidere in maniera repentina quello che è il posizionamento. A oggi questo a noi ha portato la possibilità di far uscire il nostro campionario esattamente come vuole il nostro ufficio stile.